Musica Un'enormissima richiesta perché voi Mi stavate dicendo ora per tutto Rider quando esce la top 5 esce ogni sabato Quindi si è tornato internet Da logica che esce questo sabato Spero siate felici che finalmente Ritorne e mi avete inviato una marea di clip Infatti tutte le clip che vedrete Cioè le 5 clip che ho scelto Non vuol dire che ho visto Tutte le clip ho visto fino a che Non ne ho trovato 5 quindi ho trovato questi 5 Ho stoppato ne mancano ancora un botto di clip Che non ho visto quindi se voi non ci siete Molto probabilmente se l'avete inviata Adesso vuol dire anche nel range Di due settimane può essere che Ancora non l'ho vista quindi State tranquilli nulla è perso Potete ancora sperare di entrare Comunque vi ricordo che innanzitutto ho lasciato Un like mi piace che questa serie Raggiunge sempre le mille visual Un botto di like le super pure le mille visual I like dobbiamo sfondarli Fatemi vedere che veramente siete felici Che questa top 5 cat ne sia tornata Mollate un bel like e fatemi felice E vi dico subito come Come si invia un'email per tutti quelli che sono nuovi Comunque benvenuti nella top 5 cat ne Per inviarmi un'email trovate L'email nella descrizione L'indirizzo email lo prendete lo incollate E ci mettete in non elencato il video La clip una cosa che vi voglio dire È che a parte che la clip Deve avere una buona qualità video Quindi cercate di farla a meno In 720 cioè in HD Cercate almeno così però Perché almeno così la qualità video è alta Che almeno mi fate felice Perché se no è brutto mettere un video con una qualità bassa Una cosa Non dovete editarli Perché mi sono arrivate delle clip Pure dei catni sfighi Però editati Non dovete editarli con Con zoom pump Con degli effetti Lasciatela normale la clip Mi serve normale Non voglio mettere cose editate sporche Detto ciò Passiamo subito alle 5 clip E in quinta posizione Troviamo Pier Lorenzo Che non sapevo il tuo nickname Perché sul canale youtube Era Pier Lorenzo Video live Pier Lorenzo Usatevi la clip Contro un hacker per giunta Quindi se sarò pure bravo E in quinta posizione Quarta posizione Troviamo Frozen Swallow the hope Just to survive Looking for frozen gold Follow the road back to the light Forgive me now But I'm about to play the optimist And shake a dream awake And take a risk Terza posizione Troviamo Pongsa I'm about to play the optimist Andiamo in seconda posizione Che questa settimana Comunque gli shards Sono stati particolarmente belli Dalla terza posizione Poi sono stati Wow Perché vi siete veramente Impegnati Seconda posizione Troviamo Noax Just chuggle Che mi ha detto pure Come si pronuncia Quei si faccia tutto in inglese Prima posizione Troviamo Broxy Broxai Sempre si accenti Per sbaglio Wow Broxy Broxai Decidi te Com'è meglio Troverai il tuo canale In descrizione Lo troverete anche voi Andatevi ad iscrivere Passate almeno dal suo canale Vedete se vi volete iscrivere o no E' uno jet veramente bello Complimenti anche a tutti gli altri Per gli shards E sarei veramente bravissimi Vi invito come già detto A lasciare un like Un commento Perché vi fa sempre piacere Lasciatemi un commento Se non sapete cosa lasciare Di commento Lasciate come avreste visto voi Questa settimana Le clip Così almeno mi fate felice Per il commento Perché se no mi annoio Se non ho niente da fare Almeno mi lasciate i commenti Mi fate felice Detto ciò Ci vediamo domani Con un nuovo video Da Rether Black E tutto Bella Bella